Un inquinamento elettromagnetico derivante da antenne e quanto temono gli abitanti della zona trave che ci stanno contattando in queste ore per sapere dei lavori ad un tralicio della telefonia diventato più grande, più alto e con operai della team che operano schermati da grandi pannelli a notevole altezza dal suolo. In realtà ci spiegano i responsabili sul posto della telecom non si sta facendo altro che sostituire l'antenna provvisoria più bassa e quindi potenzialmente peggiore con una cella migliore e anche con i 4G per i moderni smartphone che alla trave non arrivava fino ad oggi. Nessuna potenza aumentata quindi e nessun pericolo di elettrosmog. Tutto in regola comunque tutto secondo le autorizzazioni comunali da tempo approvate in consiglio e secondo anche i rilievi dell'ARPAM come ci rassicura l'assessore all'ambiente del comune di Fano Samuele Mascarin. A sua volta questa scelta nasce sulla base di uno studio che ha fatto ARPAM sull'intera città nel 2004 e che in quell'area individuava per l'appunto lo spiazzo nel quale si sta intervenendo come quello diciamo che poteva risolvere in maniera diciamo migliore la situazione dal punto di vista dell'impatto ambientale. Ricordo che da questo punto di vista noi abbiamo fatto anche un incontro aperto la cittadinanza il 15 dicembre del 2014 quindi ormai qualche tempo fa proprio per illustrare le caratteristiche di questo intervento che si stava all'epoca prospettando come ipotesi e che oggi trova una sua attuazione. E comunque sia grazie a una convenzione che noi abbiamo attivato con ARPAM abbiamo un monitoraggio di tutte le antenne su tutto il territorio del comune di Fano tutti gli anni quindi abbiamo un monitoraggio annuale di tutte le antenne. L'ultimo monitoraggio ha rilevato nel sito specifico un valore massimo registrato di 0,5 volt metro ed è un valore diciamo ai limiti di rilevabilità della strumentazione. Per diciamo tranquillizzare i cittadini all'interno di questa convenzione noi abbiamo comunque sia un servizio se vogliamo a domicilio ovvero tutti i cittadini che ne volessero fare richiesta possono diciamo contattare l'ufficio ambiente per richiedere un monitoraggio all'interno delle abitazioni questo a scanso di qualsiasi diciamo paura che ci può essere in ordine all'installazione dell'antenna.